cari amiche e cari amici di barba sofia benvenute benvenuti ben tornati e bentornati al barba simposio inizia oggi martedì 14 settembre la nuova stagione del barba simposio luci nuove vedete luci nuove non ho solo più quella che mi fatto stordiva e si rifletteva negli occhiali bensì ho acquistato un faretto due dire la verità nuovo ma oggi ne utilizzo soltanto uno dunque 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 no luci nuove per la nuova stagione maglietta combattiva le nostre vite valgono più dei loro profitti maglietta combattiva per ribadire sempre un po chi siamo chi sono e spero chi siete anche voi ciao viviano un abbraccio buon inizio anno al liceo di torino ovviamente un abbraccio a olbo 29 29 il tuo piatto svetta sempre nel mio salotto eva eva che ho conosciuto quest'estate al festival di clonda maura e andrea tambu c6 ma loro i fedelissimi ci sono che bello ciao filippo max max un abbraccio ma che stai salutando prima viviana di me e devo essere geloso paolo l'amico paolo guerra c'è ma l'amico paolo guerra c'è 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 che bello e poi liliana claudio un abbraccio marco ciao benvenuti fausto coppi immagino immagino appunto un nickname un omaggio al grande al gran corridore piemontere giuseppe ce lorenzo siete già in 80 100 come al solito andiamo ad ad iniziare io tantissime cose da raccontarvi anche tante tante novità per l'anno tante novità per l'anno che verrà l'anno che verrà ho già una linea di ospiti da qui sino a fine novembre da qui sino a fine novembre ci saranno ospiti tutte le settimane parleremo di fisica parleremo di scienze parleremo di medicina parleremo di teatro parleremo di storia di filosofia i primi di ottobre ci sarà l'amico roberto mercadini dunque sappiate che i primi giovedì di ottobre ci sarà roberto mercadini e la prossima settimana invece cominceremo subito con un botto con un botto cominceremo subito con un tema molto interessante la prossima settimana parlerò con magda fontanella che ha la laurea specie filosofia della persone bioetica presso una società cattolica del sacro cuore di milano dottoranda analista biografica di orientamento filosofico a una residenza svolge una ricerca sulla ambito sanitario e ci verrà a presentare socrate in camice prossima settimana parleremo di maieutica a fini terapeutici parleremo con la scrittrice l'autrice la filosofa magda fontanella parleremo di socrate in camicia dell'ultimo suo testo che parleremo di socrate la prossima settimana parleremo di medicina parleremo di ovviamente maieutica parliamo di cura di cura manca il vino ma c'è il sigaro il vino la prossima settimana porto il vino vabbè c'è corinna ciao qui un abbraccio grande 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 e bene 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 prossima settimana si parleremo di socrate appunto in in camice dunque parleremo di socrate e medicina e poi vi dicevo parleremo di fisica tra 15 giorni con un collega di chivasso che ha aperto un cane youtube di fisica che sta andando veramente alla grande parleremo anche un po del famigerato famoso test di medicina cerchiamo di capire un po anche gli aspetti legati alla matematica e alla fisica del test di medicina che molti studenti hanno svolto la scorsa settimana che stanno svolgendo ancora in queste settimane poi poi c'è un roberto mercadini ma poi ci saranno altri osti parleremo di spinosa parleremo di nice parleremo di tasse sarà ospite pallante sarà ospite rimo se ho già qua il suo libro coletto certamente sarà ospite anche qua dei primi 15 giorni di ottobre francesco pallante professore universitario di torino e parleremo delle tasse faremo l'elogio delle tasse si viviana ci sarà valerio valerio è il nostro collega l'amico valerio rossana c'è dalla stupenda dalla stupenda sicilia da catania assolutamente vedo che state arrivando bene stasera stasera andiamo ad iniziare parleremo invece di di geopolitica parleremo di un testo che ormai è un classico un testo che ha una trentina d'anni parleremo del testo di samuel paul huntington lo scontro delle civiltà il nuovo ordine mondiale l'evento dell'estate da questa geopolitico politico internazionale politico militare è il ritiro degli stati uniti d'america dall'afghanistan e dunque la vittoria dei talebani dopo vent'anni di di guerra condotta dagli americani per costruire una nazione nation building poi biden ha detto in realtà nessun nation building volevamo solo sgominare al qaeda dunque però quest'estate sembra che lo stato islamico amico non da esporto islamico dei talebani sia stato in grado di mettere radici di vincere chissà se da isis troveranno in quello stato una possibilità di fare progettismo di radicarsi fatto sta che quell'islam estremista radicale che era alla ricerca di uno stato forse lo ha lo ha ottenuto in realtà c'è già l'arabbia saudita e poi ancora in realtà ci sono molte molti altri stati in cui questo tipo di islamismo può muoversi però però qualcosa sta cambiando qualcosa si sta radicalizzando andiamo verso la previsione di huntington allora lo scontro delle civiltà la de occidentalizzazione che il conservatore huntington denunciava 30 anni fa si sta effettivamente realizzando questa sera tra pochi minuti parleremo di scontro di civiltà ancora due tre notizioni e poi dopo inizio non so se lo sapete mai nato il triunvirato la collaborazione tra barba sofia morte bianca e alessandro carnevale nato anche un canale youtube che si chiama appunto il triunvirato su cui potete già trovare una lezione una chiacchierata un simposio in cui abbiamo parlato piacevolmente di percezione da un par di percezione lo trovate il canale youtube il triunvirato domani sera domani sera nuova diretta qui sul canale twitch del triunvirato poi caricheremo la lezione su youtube nei giorni successivi ma domani sera sempre intorno alle 21 io morte bianca e alessandro parleremo di geopolitica insieme e parleremo in modo particolare dell'undici settembre questa sera io parlerò di antito di scontro di civiltà parola delle tesi di antito tratterò in maniera marginale l'undici settembre lo tratterò ma non è il fulcro centrale della serata domani sera invece parleremo di undici settembre vent'anni dopo l'undici settembre io ne parlerò da un purista storico al carnevale anche purista politico e e morte bianca purista storico sì ma anche con tutte le sue conoscenze maniacali perché morte bianca è anche un grande un grande accumulatore di dati e di e di notizie dunque domani sera speciale undici settembre vent'anni dopo sul canale twitch del triunvirato e poi e poi e poi lo caricheremo sul canale youtube del triunvirato va bene 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 siete in tantissimi adesso andiamo ad iniziare l'estate l'avete trascorsa bene io devo dire che ho veramente girato l'italia la calabria nell'abruzzo e continuo ancora e continuo ancora questo sabato su una pinerola pensieri in piazza a parlare di scuola a parlare di scuola la settimana prossima a venerdì sarò a domodossola festival tura il mattino nelle classi poi la sera in piazza poi la settimana anche e poi e poi e poi e poi domenica venticinque sono al festival di storia medievale di gubbio io sono uno storico ma mi hanno invitato in occasione di dante a parlare dei filosofi che dante ubica all'inferno dunque se siete del centro italia domenica venticinque di ottobre sarò appunto a gubbio al festival di storia dedicato a dante parlerò dei filosofi all'inferno va bene non è cambiato molto chiedete rispetto alla zolina ma 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 allora a zolina hanno già parlato è stata veramente tratta male 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 ha commesso gli errori clamorosi ma il governo anche lasciata da sola l'attacco la zolina poi assunto anche sembianze del maschilismo più becero dunque dai cappelli l'occhiai e rossetto le unghie i banchi a rotelle come quasi live motive come ripetuto all'infinito dunque è stata veramente maltrattata bianchi ha ricevuto un trattamento migliore come tutto il governo draghi nonostante molti le adempienze il governo draghi gode di una credibilità internazionale sicuramente più elevata del governo conte anche se conte aveva la sua credibilità internazionale draghi comunque un uomo che se alza il telefono parla direttamente con le principali cancellie del pianeta pertanto draghi è pesante draghi è sicuramente la carta politica più potente che poteva giocare mattarella che non aveva nessuna intenzione di andare ovviamente al voto in piena pandemia la mia posizione è la mia la mia ripeto la mia e che piacciono non piacciono melonia salvini occorre andare al voto e non andare a fine della legislatura perché 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 comunque è giusto che la democrazia la parla ritorni agli elettori dunque secondo me dopo le lezioni del presidente della repubblica sarebbe opportuno che si tornasse alle urne le urne poi sanciranno molto probabilmente la vittoria della melodia salvini non è detto però è anche giusto forse tornare alle elezioni sarebbero lezioni anticipate nel frattempo tra i governi ci sono stati conto uno conto due poi un 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 draghi un questa opzione chiaramente del delle lezioni anticipate ci sarà solo soltanto se draghi salirà al 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 colle dunque se draghi diventerà il presidente della repubblica cosa molto probabile magari magari dedico poi una diretta proprio al tema presidente della repubblica magari invito la professoressa di nuovo di bologna richiacchieriamo un po di di norme costituzionale magari parliamo se vi piace di di elezioni del presente repubblica mi sembra chiaro che non ci sono assolutamente possibilità di un presidente donna in questo momento mancano le papabili non che manchino le donne non voglio essere frainteso ma oggettivamente non c'è una donna che l'equilibrio politico attuale potrebbe votare la bonino che a chi piace non piace comunque una carta bruciata a casellati anche con le sue donne di carratura nazionale o internazionale che c'era la finocchiara ormai fuori dal gioco la boldrini troppo odiata dalla destra divisiva dunque il presente repubblica si cerca sempre nelle prime minore tornate di trovare un 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 nome diciamo moderato c'è casini casini e moriremo democristiani tu che vai c'è casini tra i papabili chiaramente alcuni per provocazione parlano 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 di berlusconi rendiamoci conto di al addirittura di chi viene proposto ma penso che sia una provocazione io non penso che si esca da draghi casini draghi casini sono l'unica due opzioni eh di 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 presidente io vedete tra tutti questi dubbi una donna ce l'avrei solo di scatenare le vostre ire però almeno ha una statura morale che rosibindi no state per insultare ma ragazzi la la caratura etico morale di rosibindi rispetto ad altri personaggi eh è altissima parlando di donne perché altre ovviamente donne sulla sessantina settantina d'anni in questo momento non 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 ce ne sono casini vedo che fra il ciao 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 la prof di primo comma certo ma la prof di prima comma ok la fisica che ci piace la saluta io saluto siamo in onda contemporaneamente lo so lo so quest'anno io andrò in onda di martedì perché di giovedì terrò il corso della filosofia del cambiamento se siete interessati vi ricordo che quest'anno la crisi del cambiamento eh presenta un nuovo corso lo terrò io e il tema sarà il mondo tra realtà e illusione e dunque platone parmede cartesio schopenhauer freud tutte lezioni che io terrò in un corso ragazzi che per chi era già scritto e 37 euro parliamo di quattro ore di lezione quattro ore di lezione registrate più ok ho sette lezioni webinar in diretta a un conto di 37 euro ragazzi per chi si è già scritto per gli altri mi sembra 45 47 euro dunque parliamo di neanche tre euro di fatto al allora a lezione comunque siete interessati vi trovate sul canale va bene iniziamo 646 quanto sono alto 187 centimetri sono gigante 105 kg mi sono anche messo a correre mi sono iscritto in palestra gioco bis volle ma sono sempre 105 kg sono anche alla scuola sono al gioberti ho conosciuto le mie nuove classi in questi giorni ho la prima b nel liceo classico poi il triegno del del linguistico con inglese tedesco e spagnolo viviana siamo alti uguali ma tu sei anche la donna più alta che io conosco vivi sei altissimo altissimo va bene va bene va bene bene sei tantissimi 171 allora vado a iniziare la mia anche lezione su huntington posso ancora dire l'ultima cosa oggi ho consegnato l'introduzione del mio libro il libro uscirà per ballardi avevo questo doppio libro in cantiere con ballardi mi sento veramente molto bene ho finito l'introduzione tutto verrà adesso riletto io le faccio tantissime volte verrà ancora ricontrollato andò di stampa e a febbraio uscirà il nuovo libro con un titolo molto originale molto divertente che non vi dico ancora ma ci saranno dieci filosofi e filosofi raccontate a partire da un atto di ribellione dunque filosofi coraggiosi filosofi coraggiosi vi dico solo che l'ho fatto ho usato l'ultimo capitolo big one non è un capitolo quasi un libro perché è molto più lungo dell'altro libro questo o comunque più lungo sarà dedicato a car ma pertanto se avete piacere di sentire saudino parlare di bar d'altra volta ti piace di leggere come ho raccontato marci da febbraio il nuovo libro avrà proprio 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 anche marci poi alcuni autori che sono il mio cavo di battaglia come spinosa altri autori minori che non conoscete si pronuncia un bel libro bella copertina io ripeto sono andato all'ottava edizione e ho riuscito una bella soddisfazione che è stato il saggio divulgativo eh esordiente e più venduto d'Italia nel duemila venti ventuno dunque sono veramente molto contento benissimo ci siamo qualcuno fatto via eh perché stavo dilungandovi come al solito non so se c'è ancora siete piacere di sostenere tutto il progetto barba sofia mi sembra che sia il tasto per poter donare siete piacere c'è il poi la piattaforma tp se andate siete sempre più di centocinquanta iscritti avete anche anche in quel caso lì una cinquantina di video esclusivi sul simposio sull'anticristo su Erasmo da Rotterdam passate un euro al mese due euro al mese per avere ore e ore di lezione possiamo iniziare sapete solo che c'è la Juve che gioca io non ho neanche qua nulla per vederla i miei amici ma come fai la diretta mentre gioca la Juve in c'è il più uscito guardate io quest'anno il martedì e il martedì fedele la linea Juve o non Juve sarò qua con voi va bene allora il da sotto da Costa Rica un abbraccio un abbraccio bene ci sarete bene il nuovo libro uscirà uscirà a febbraio e poi inizierò andrò a presentare in giro per il festival per le librerie comincerò la nuova stagione veramente sono molto soddisfatto perché ci sono degli autori bellissimi due o tre ve l'ho già detti ma sarà Epicuro ci sono mentre alcuni autori molto 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 belli allora iniziamo questo testo quando io mi sono imbattuto in questo testo questo testo che oggi torna in auge proprio perché lo scontro di civiltà Cina la civiltà sinica il mondo dell'Oriente la civiltà cristiana chi Europa in crisi Stati Uniti la civiltà islamica chi talebani l'Arabia Saudita ma quale Islam l'Iran lo scontro tra civiltà sembra essere una categoria interpretiva degli eventi che stiamo vivendo dopo l'undici settembre e che sembrano continuare ad essere appunto la caratteristica di questa di questa epoca cioè scontro a partire da civiltà bene mi sono imbattuto nel testo del politologo del saggista americano Samuel Paul Huntington nel proprio 97 98 quando il libro è stato tradotto in Italia il libro scontro di civiltà di Huntington e del 1996 poi viene editato tradotto editato in Italia appunto nel 1997 da Garzanti io stavo dando l'esame di storia contemporanea io mi salto in filosofia politica e ho dato degli esami di storia contemporanea e diede un esame di storia contemporanea dedicato alle relazioni internazionali alla geopolitica c'era una parte istituzionale legata alla guerra fredda e poi c'è una parte monografica e la parte monografica è stata dedicata da mio professore proprio anche agli anni post-crollo muro di Berlino e dunque in quegli anni di transizione gli anni prima delle Twin Towers prima della guerra in Afghanistan prima della guerra in Iraq in quegli anni sulle macerie dell'Unione Sovietica molti testi di geopolitica provavano a leggere in fieri in divenire quanto stesse accadendo allora il professore Bruno Bongiovanni che tengo sempre sempre nominare a citare è un grande professore di storia contemporanea vi consiglio sulla guerra fredda anche il suo pamphlet il suo libro per i noccioli della la terza in un'ottantina di pagine riesce a snocciolare la guerra fredda i nuclei centrali della guerra fredda bene Bruno Bongiovanni mi propone perché io ho già un altro in una storia contemporanea di fare un approfondimento e mi diede appunto da leggere il testo appena uscito in italia di antito scontro di civiltà e allora preparai questo testo con altri per l'esame di storia contemporanea va bene e si è bello voluminoso è il testo di Huntington e di ehm quattrocento quattrocentosettantanove pagine quattrocentosettantanove pagine poi ci sono anche le cartine le tabelle ci sono ehm alcuni documenti dunque un libro voluminoso e mi metto mi mi sono gettato appunto ringrazio tra l'altro Giorgia per aver donato grazie Giorgia e mi sono appunto messo a leggere questo libro e questo libro di Huntington esce proprio in polemica polemo scontro con il testo di geopolitica di analisi politica all'epoca probabilmente più diffuso più famoso il libro che la sua bocca di tutti eh ve lo ricordate il libro era del 1992 the end of the end of history and the last man la fine della storia e l'ultimo uomo di Francis Fukuyama il il politologo americano di origine appunto di origine appunto giapponese e Francis Fukuyama con la fine della storia aveva letto il crollo del muro di Berlino come la fine delle guerre ideologiche la fine delle guerre ideologiche e la tesi di Francis Fukuyama era la storia finisce era una provocazione cioè finiscono le divisioni del mondo tra este o finisce la divisione tra comunismo e capitalismo finisce con la vittoria del capitalismo finisce con la vittoria della democrazia liberale americana occidentale che diventerà il modello che si espanderà in tutto il mondo la liberale democrazia ha vinto contro il nemico più forte perché aveva un'ideologia più forte perché aveva in sé una promessa l'emancipazione del proletariato più forte perché aveva in sé la struttura politica aveva della filosofia perché era stato egemone il comunismo culturalmente le università ma poi nel mondo dell'arte la cultura sconfitto il comunismo storico sarebbe rimasto più il comunismo più diciamo teorico ideale più il comunismo diciamo intellettuale ma sconfitto quello storico reale realizzato nell'unione sovietica e nei paesi satelliti nel novanta 89 il 92 c'è la grande frana la chiama osmond dedicata poi al grande storico osmond nell'età della grande frana la fine del comunismo in romania violento il fine del comunismo nella cecoslovacchia rivoluzione di velluto invece in maniera appunto non violenta la fine del comunismo storico in ungheria la fine del comunismo in polonia la fine del coso in bulgaria la fine poi del comunismo le soviete il cronico realizzato con la vittoria della liberale democrazia americana del capitalismo apriva nuovi scenari scenari in cui il modello in campo era uno perché l'unione sovietica ha rappresentato un forte modello politico realizzabile perché il leninismo è una teoria politica che poteva essere adottata ed è stata adottata da molte ovviamente formazioni di decolonizzazione di dipendenza nell'africa e nell'asia edificare uno stato comunista era ovviamente era ovviamente una modalità realizzabile edificare questo comunista era realizzabile quali erano i modelli di stato o lo era stato centralizzato vabbè napoleonico proprio perché è stato centralizzato sul modello capitalista stato centralizzato sul modello appunto comunista stato più minimo stato più forte ma il modello da contrapporre al capitalismo alla libera democrazia il modello realizzabile era quello appunto comunista quello statalista sovietico quello leninista il che fare come organizzare il potere il partito il consiglio la struttura la polizia la gerarchia dentro un'organizzazione statale dunque possono nascere stati comunisti in africa in asia sconfitto il comunismo imploso il comunismo rimasto residuale a cuba come organizzazione politica nella cina in coria del nord france fucuyama dice fucuyama dice la liberale democrazia diventa il paradigma che sarà adottato il paradigma abbracciato da tutte le aree del pianeta progressivamente non dall'oggi al domani può sembrarci semplicistica questa lettura forse lo è forse no perché effettivamente la liberale democrazia è cresciuta negli ultimi trent'anni è cresciuta poi non può dire ma liberale democrazia non è una vera democrazia certamente liberale democrazia democrazia rappresentativa democrazia che spesso fa gli interessi del capitale quasi sempre della classe dominante buono prossimo liberale democrazia più progressisti più conservatrici più avanzate sono liberale democrazia che sono anche in parti socialdemocrazie cioè liberale democrazia è un modello poi sono tutti uguali liberale democrazia è chiaro però il modello adottato è questo nel paese dell'essi afferma quello nel mondo africano no si affermano faticosamente il problema della corruzione il problema della impreparazione della classe dirigente in america latina si affermano anche lì con mille problematiche liberale democrazia dunque la storia finisce finisce provocazione nella liberale democrazia la storia finisce nell'affermarsi della liberale democrazia come modello politico e come capitalismo e sistema economico dunque siamo alla fine della storia e l'ultimo uomo sarà capitalista l'ultimo uomo sarà un uomo appunto che vive nella liberale democrazia questo sarà l'ultimo uomo questa è la fine della storia ebbene di fronte a queste tesi che oggi soffra anche se si spugiamo a chiaramente ha previsto ha riletto rimane un convinto studitore dei processi liberali democratici come correggere gli errori della libera democrazia come rafforzarla però di alta alla tesi di fukuyama risponde paul antito alla tesi si controppone quella di anti il quale invece sostiene no altro che fine della storia la storia ritornerà prepotentemente ad essa attraversata da conflitti quando quando continuerà ad emergere la conflittualità di tipo etnico razziale culturale alla conflittualità delle ideologie comunismo versus capitalismo alla conflittualità tra nazioni l'ottocento ci torno è l'ottocento gli stati nazionali lungo percorsi nazionali della guerra di cent'anni a napoleone a tutto l'ottocento e la grande ma al stato nazionale alle guerre degli stati nazionali che finiscono la prima guerra mondiale alle guerre ideologiche nazismo fascismo comunismo democrazia se guerra civile spagnola guerra seconda guerra mondiale i conflitti negli anni chiaramente 70 80 giro nel mondo decolonizzazione anche su base ideologica a queste guerre tra stati tra ideologie subentreranno succederanno nuove guerre le guerre su base culturale il nuovo ordine mondiale il nuovo equilibrio o disequilibrio geopolitico sarà di tipo culturale ci saranno delle faglie di conflittualità su base culturale queste faglie di conflittualità daranno vita a guerre locali regionali daranno vita a guerre che saranno sempre più difficili da gestire a guerre che saranno sempre più difficili da gestire perché usciranno questa è molto bella dopo io provo in parte a criticarla a smontarla a me non convince proprio io ve la presento queste guerre saranno più problematiche perché non saranno le guerre tra gli stati la francia di napoleone terzo e la germania di bismarck non saranno tra ideologie guerra fredda l'unione sovietica i satelliti stati uniti e i paesi alleati saranno guerre sporche guerre nel deserto nella giungla saranno guerre nelle città saranno guerre in montagna saranno guerre quartiere per quartiere saranno guerre etnico razziali guerre culturali guerre di identità quelle che thomas hobbs dice sono poi le più difficili perché sono guerre quelle identità culturali in cui tu vuoi vincere certamente ma la vittoria passa per l'allientamento della cultura del tuo avversario dunque se una guerra fra nazioni per lo sbocco sul mare se una guerra tra nazioni per un passaggio di 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 eredità una guerra di successione finisce quando hai ottenuto con un trattato lo sbocco sul mare l'ampliamento del confine o hai ottenuto quella corona quel trono hai rovesciato quel governo se una guerra a un obiettivo politico è una guerra più facile da gestire più facile guerra finisca è più facile sedersi intorno a un tavolo e trattare se una guerra su invece la caratteristica portante dell'identità islamismo cristianesimo islamismo ebraismo cultura nipponica cultura giapponese buddismo confucianesimo mondo occidentale anti occidentale se la guerra sulle queste caratteristiche diventa di identità e le qualità si trascinano le qualità logro al qualità sono guerre a cui non si riesce a dare una svolta politica conclusione politica e poi sono guerre striscianti laceranti appunto guerre micro locali provinciali regionali guerre in cui non c'è più la distinzione civile militare e in questo antitone ha dato sicuramente un contributo importante al dibattito antitone rimane un gran conservatore perché il punto importante di antitone è questo attenzione altro che fine della storia caro francis fukuyama la storia non finisce anzi più guerre più conflitto lungo delle faglie che adesso vi presento e queste guerre rischiano di vedere il declino dell'occidente tutto il testo di antitone attraversato dalla paura che l'occidente declini c'è un processo di de occidentalizzazione vi è un processo di de occidentalizzazione in corso attento fukuyama vede il trionfo del modello politico culturale occidentale antitone vede le debolezze del modello politico culturale occidentale antitone vede la de occidentalizzazione francis fukuyama vede invece il trionfo dell'occidentalizzazione dell'occidente dunque il vecchio discorso molto ideologico molto anche sopra le righe di sprangler no il tramonto e l'ottocento la cultura della destra nazionalista che ha in sprangler anche un metropense intellettuale portante il tramonto dell'occidente di sprenger che sprenger denuncia no tra 800 e 900 sta avvenendo il declino dell'occidente storico politico culturale nicene individuati invece la decadence filosofica chiaro schopenhauer individuato invece il nichilismo dell'occidente ebbene la crisi l'occidente e d'antito sostenuta è un sostenitore della crisi ma è il classico sostenitore della crisi che dice attenzione attenzione c'è una crisi l'occidente in corso ribocchiamoci le maniche cambiamo il corso la storia o mettiamoci nel metto andiamo alla guerra perché poi le teorie di huntington hanno avuto ovviamente anche come conseguenze quella di o quelle di investire poi in armi e intervenire nelle zone di conflitto con un approccio ideologico bene vedo se tantissimo quasi toccato i 200 ma quanti anche interventi la tesi di huntington merito renti merito rapporto tra la cultura adesso arrivo e adesso entro e adesso entro adesso entro nel modo la guerra è un contratto equidistante c'è cant 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 nel libro che uscirà febbraio ho osato ho osato parlarvi di cant raccontar ciao silvia che bello la live e su youtube domani invece con gli amici morte bianca e alessandro carnevale sarò su twitch ma poi caricheremo la live sul nostro nuovo canale che si chiama il triunvirato il triunvirato non le guerre assolutamente la guerra deve diventare il tabù della storia come sosteneva il maatma gandhi martin luther king in italia aldo capitini passerò è passerò quest'anno tante idee che sto scrivendo tantissimo non anche tutto il tempo per 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 fare troppe live ma quelle che farò saranno tutte dedicate no le mie le emozioni a grandi temi a macro temi anche di storia di politica di geopolitica di filosofia politica quest'anno voglio concentrarmi dunque anche i filosofi della politica come aldo capitini il padre della non violenza italiana ancora 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 il padre della non violenza italiana che ha avuto anche in danilo dolci altri interpreti la guerra ha messo al bando padre combognano alex zanotelli amico di don gallo il prete di genova ma lo stesso gino strada no che non era un pacifista ma detto quel ma dentro cosa ben netta avendo visto la guerra la guerra va messa al bando e manuel canto o meglio in manuel can da li partiamo allora ricordo di quelli che volessero possono fare sotto c'è il tasto le donazioni iscrivetevi anche il canale tp io sto caricando tantissimo materiale sulla piattaforma tp e ci sono tante 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 cose che potete scaricarvi le lezioni di filosofia invece su tp le farò tutte sono tutte ad abbonamento ok ma ho intenzione di fare delle zoomate ho visto che andrea con la medici le fa che altri fanno se avete piacere io pubblicizzerò con abbonamento minimo ci facciamo delle zoomate lezioni per poche quindici venti trenta persone ci troviamo e facciamo filosofia insieme vi dirò prima non so parliamo di front parliamo di fucco parliamo di bickstein parliamo serata e con una zoomata di una ventina venticinque persone facciamo lezioni vi piace questa idea morte bianca per sempre pappagalli verdi non pappagalli gialli triunvirato e morte o morte no 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 è un po socialismo morte e socialismo morte di castro eccetera eccetera grande prova grazie la pace perpetua il testo da far leggere in tutto il mondo a tutte le latitudini a tutte le longitudi quanti interventi mi interessa di tutta la frase e le nostre vite valgono più dei loro profitti prima persone era il motto di genova del movimento del che aveva provato a contrastare il g8 prima le persone e poi gli interessi del multinazionale delle banche e poi gli interessi eh privati e poi gli interessi dei governi prima le persone la salute l'istruzione la viabilità di questo tema ne parlerò poi nell'anno nuovo noi qua domani a torino abbiamo già dire il blocco delle auto siamo in una società malata lo dico l'amico ecologista salutista max stefano di cosa stiamo parlando max parliamo di città che sono delle camere a gas non riusciamo a invertire la viabilità a cambiare la viabilità non riusciamo a disincentivare le automobili non riusciamo a costruire società in cui si lavora il più vicino bisogna cogliere questa occasione anche quella della pandemia transizione ecologica vuole anche dire mangiare cibo più vicino a casa vuol dire anche lavorare più vicino a casa vuol dire spostarsi in altro modo ripeto noi domani a torino sia per l'ennesima volta con il blocco dell'euro dell'euro 12 con anche 34 mi sembra compreso diesel e come al solito dunque le persone che hanno meno soldi che hanno le auto più vecchie si trovano con l'impossibilità di prenderla e dunque si arrabbieranno e vorranno usare l'automobile magari vanno a votare quelli che ti dicono più auto più strade e non più biciclette più energie rinnovabili e un gatto che si morde la coda un vento in circolo un circolo vizioso è un circolo vizioso va bene riprendiamo ci siete ma parlo di ecologia la tv a venti persone ma sto scherzando con le pezzi del libro nero sul comunismo va bene parliamo una sera magari ne parlo una sera il libro veramente ma è il libro nero del comunismo il libro nero del capitalismo non piacciono tantissimo si fa storia solo con i numeri io continuo dirlo i numeri non vogliono dire niente o meglio vanno poi interpretati va bene no quei numeri del libro nero del comunismo sono numeri veramente grossolani grossolari ma non vogliamo cambiare una delle nostre vite bravo il mondo non lo cambiamo certo bisogna dire che adesso la transizione ecologica come vedete ce la fanno pagare noi nella bolletta adesso l'aumento energetico allora è chiaro che come dicevo green capitalism green capitalism però non può essere che i profitti dei capitalisti li paghiamo noi cittadini noi lavoratori diamo ridurre i guadagni dei grandi capitalisti avverrà tutto ciò solo se la democrazia è molto avanzata anche di queste cose parlerò nel prossimo libro vediamo noi samuel antito ci siete ancora seconda parte io le lezioni quest'anno nostre serate live poi ditevi se vi sono piaciute se questo taglio vi piace se la nuova stagione vi piace per me è importante anche sapere non quello quello che voi aspettate come volete costruire queste queste dirette prossima settimana socrate in camicia socrate in camicia parleremo di socrate e della maieutica socratica per guarire ne parleremo appunto quella professoressa dottoressa magda fontanella la prossima settimana veniamo noi samuel antito seconda parte vediamo antito individua no come le uova in camicia antito individua nove civiltà nove civiltà potenzialmente in conflitto alcune più in conflitto altre meno in conflitto alcune che collaborano alcune che si alleano antito indovì individua nove civiltà e poi va ad elencare alcune faglie di conflittualità faglie ovvero zone nel mondo siamo metà degli anni 90 in cui ci sono quei conflitti antito da navigato politologo vuole suffragarla sua tesi con degli esempi concreti e io andrò a fare cominciamo ecco le nove civiltà che entreranno in conflitto o che collaboreranno anche a geometria variabile prima civiltà l'occidente l'occidente che vuol dire l'europa gli stati uniti vuol dire australia e il giappone e l'oriente sì ma giappone vediamo dopo il giappone è un qualcosa poi di molto complesso prima civiltà l'occidente seconda civiltà la cristianità orientale intende il mondo ortodosso faccio un po una forzatura lui dice adesso che il comunismo è crollato quali identità assumerà il mondo orientale ritornerà all'ortodossia ma non è che l'ortodossia cristiana goda di buona salute anche in questo momento è nel senso che l'ortodossia cristiana è limitata in pochi paesi crisi di natalità però è una civiltà ci dice antito e sicuramente una grande cultura una radicata e millenaria cultura 1 l'occidente 2 la cristianità orientale 3 il mondo latino americano nell'occidente mettete gli studi del canada ovviamente mettete le isole caraibiche e america latina dunque il brasile no il peruno uruguay il paraguay tutto quello che è la colombia venezia il mondo latino americano una civiltà civiltà latino americana che è ovviamente fatta di cristianità ma ma è la cristianità latino americana e dunque il messico i sogni le nuvole la rivoluzione la cristianità la magia i sogni gli incubi tutto quello che è il mondo cristiano spagnolo ispanico portoghese latino americano quarta cultura quarta civiltà la civiltà islamica qua antito ovviamente parla di islam civiltà islamica e qua qualche punto qualche punto dopo lo faremo civiltà islamica quale scito sunnita quale sunnita militarista all'egitto sunnita uabita quella saudita sunnita come quella pakistana sunnita come quella talebana scita iraniana scita hezbollah anche quel mondo islamico è più complesso lui lo costruisce come un blocco unitario quinta civiltà quella induista non ne parliamo mai ovviamente ma c'è l'india ricordiamoci chi che fine farà l'india nella guerra fredda era una terra di mezzo sta legata l'unione solita che per tanto tempo con nero poi è passata con con l'occidente alleata con in parte gli stati uniti ma poi dopo è uscita abbandonata e tornata verso la russia in funzione anti pakistan che è molto legato gli stati uniti anche se negli ultimi anni il pakistan pretende andare per conto su come prende andare per conto su la turchia di erdogan che alleata gli stati uniti ma se queste cose vi piacciono domani sera live con morte bianca e carnevale parleremo di vent'anni dopo l'undici settembre però capite dire in duco vuol dire india vuol dire india il colosso indiano oltre un miliardo di abitanti dove si muove dove si muoverà nel ventunesimo secolo verrà polarizzato dalla cina manterrà legami colonici con la russia sarà tratto dall'occidente e questa cosa è il fondamentale va capita va studiata quinta civiltà in du sesta l'oriente come intende ovviamente per l'oriente incende la cina intende la cultura sinica la cultura sinica la cultura sinica vuol dire è la cultura che ruota intorno al mondo cinese la cultura sinica vuol dire il cina si ma vuol dire antitundice di ennam il laos la cambogia ma sono stati reali no vivono dentro il grande apparato culturale civiltà di civiltà cinese e dunque eccolo qua la cultura orientale intende ovviamente quella tendenzialmente più legata proprio alla 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 cina alla cina poi c'è la cultura ovviamente settima quella giapponese c'è una cultura giapponese la cultura nipponica che dalla dinastia mese fino ottocento ha cercato di coniugare civilizzazione occidentalizzazione economica con tradizioni culturali e politiche millenarie dunque gli usi costumi la morale la cultura nipponica con nel frattempo la tecnologia e l'economia occidentale diventando di fatto la principale produttrice di tecnologia primi anni 90 la sony che vince che sta dominando le macchine giapponesi computer giapponesi gli stereogiapponesi wallman giapponesi gli stati uniti nei primi anni 90 vanno in guerra economica contro il giappone perché perché la patria del liberismo la patria del libero scambismo la patria dell'economia di mercato quando sente il proprio mercato aggregato aggredito lo protegge l'ho fatto tram l'hanno fatto di bush l'hanno fatto ok anche il bus padre nei primi anni 90 contro le automobili e contro la tecnologia computer appunto giapponese dunque questa è la settima civiltà poi c'è l'ottava che quella buddista che un po trasversale che è la buddista ci c'è nel mondo cinese c'è nel mondo orientale però è una civiltà lui dice un po trasversale che può unire le civiltà che le può anche portare a delle fratture e poi c'è una civiltà e qua e qua è quante in ton compie una forzatura africana africana chi sono non solo il nord africa che rientra nella civiltà islamica ma per cultura e civiltà africana intende l'africa subsahariana e dunque la nigeria ma dunque chiaramente quella del polo occidentale nella costa d'avoro il senegal poi scendendo non la tanzania quello che erano appunto il congolo zaire sino arrivare al sud africa queste sono le nuove civiltà queste sono le nuove civiltà e sono anche queste civiltà che entreranno dice in conflitto perché le civiltà hanno elementi di comunanza ma hanno anche e forse soprattutto grandi elementi di frattura che frankie scuturiamo invece ha sottovalutato invece il politologo samuel paul huntington esalta dice no no sono proprio le linee di conflitto tra civiltà quelle che determineranno il divenire delle civiltà stesse questo deve tenerlo appunto capitolo primo capitolo primo dice le bandiere nuove non sono più quella rossa non sarà più quella degli united states of america 50 stelle le 13 strisce no 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 le nuove bandiere sono le bandiere dei nazionalismi no delle civiltà stanno le culture le etnie dunque l'identità culturale la nuova bandiera islam cristianità oppartenenza etniche proprio tribali dunque al mondo dei nazionalismi ottocenteschi al mondo delle ideologie e l'introduzione al mondo delle ideologie del novecento subentra il mondo delle culture delle mie primo capitolo e così strutturato secondo capitolo importante la natura delle civiltà e presenta queste civiltà la natura delle civiltà gli elementi religiosi di queste civiltà gli elementi culturali della civiltà gli elementi appunto tradizionalisti di queste civiltà e i rapporti tra le civiltà perché sono rapporti di dialogo ma sono anche rapporti di tensione i rapporti di dialogo tra stati uniti giappone rapporti di dialogo nuovo che sono tra europa occidentale e la cristianità orientale ci sono ovviamente rapporti tra le civiltà rapporti di subordinazione rapporti di ovviamente di forza rapporti di dominio rapporti di cooperazione questo ci dice antito ci sono app o rapporti variabili a geometria variabili interazioni pagine santa 4 è un questo un sistema a più civiltà non siamo in presenza di un mondo ad una civiltà non siamo in presenza dell'unico mondo a civiltà anglo americana liberale democratica ma più civiltà voi direte vabbè ma ma in ogni posto del mondo c'è una possibilità di mangiare al mcdonald di mangiare al burger king ascoltiamo la musica di degli u2 o di shakira eh in tutte le parti del pianeta i film della marvel escono ovunque della disney escono ovunque e netflix amazon prime tutto il mondo è globalizzato ed è globalizzato a partire da una cultura anglo-americana sì ci direbbe antito ma anche no perché è vero che c'è questo processo macro è vero che c'è questo processo di globalizzazione economico capitalista mercificazione ma sopra aggiungono rimangono continuano esserci gli ovviamente i substrati identitari gli elementi culturali delle singole civiltà dunque caro occidente dice antito nel momento in cui tu prendi ciao chi va via mi saluto nel momento in cui tu pretendi di essere diventato l'unico modello attenzione che in seno a te stesso si stanno sviluppando le identità culturali e forse qua lo jihadismo e l'isis e quello che si fa saltare di quello che entra il bataclan e il ragazzo che arriva uccide quelli charlie ebdo è stato un profeta antito è stato un profeta o ha forzato la lettura in quella direzione e ha contribuito che si realizzasse questo di mondo io la lascio lì l'ultima la ciamaraini e sta la ciamaraini già posso fare oh mamma mia aiutatemi la scrittrice non di inshallah l'importante scrittrice a orina fallaci grandissima giornalista le sue interviste i suoi libri anni 60 70 importanti ma qual è a mio avviso il grave errore proprio culturale che ha fatto ha dato ha interpretato una parte per il tutto l'ha interpretato una parte di islam per il tutto questo gli ha contestato sempre tiziano terziani tiziano terziani girando il mondo che gli ha detto guarda che tu stai trasformando una parte nel tutto e come se noi prendessimo la cultura mafiosa presente non solo in cina in giappone mondo slavo in italia e l'assumessimo come l'identità culturale di quella civiltà e alcuni fanno che tra i mafiosi non si può mai prenderla parte per il tutto dunque l'orrore della fallaci è stato quello non tanto di interpretare gli eventi ma di forgiarli e di proiettarli in una lettura totalizzante di parte cioè le tue attenzione vengono a conquistarci ma non io ho in classe tantissimi ragazzi negli anni ho avuto di origini magrebine vanno fare ingegneria o vanno a fare veramente economia giurisprudenza ma vengono a conquistarci no la sostituzione culturale l'ultima l'ultimo riana fallaci ha preso a mio avviso la mia opinione sono qua e scrivete parliamone un abbaglio un granchio e ha interpretato come un unicum con un moloch come un appunto una totalità indistinta tutto l'islam e non è così ed è l'errore ho già anticipato la critica che a mio avviso fa antito antito il cui testo importante e ci dà un ottima chiave di lettura da affiancare ad altre chiave di lettura ma antito forza le identità culturali ci dice il nuovo ordine mondiale non sarà più bipolare attenzione non sarà più nazionale sarà un mondo ordine mondiale su base culturale su base etnica su base di fagli di conflitto culturale ma nel dire questo è quasi come se facesse la cassandra che vuole profetizzare quel mondo e accentua la realizzazione di quel mondo lo accentua profondamente e parla di islam parla di mondo sinico parla di cristianità orientale di occidente un blocco unico italia stati uniti germania francia sarà un blocco unico chi lo sa cioè questo è un aspetto importante sono degli spunti fondamentali a me sembra che ci sia poi però una 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 forzatura si non ho preso le dichiarazioni della fallaccia le dichiarazioni sono dichiarazioni rancorose rancorose ha buttato molto bene benzina sul fuoco è chiaro cioè questo è importante a dire no ehm che non vuol dire prendere la fallaccia e buttare tutto quello che ha scritto nel cestino assolutamente ma lui la tua fallaccia è rancorosa una donna che secondo me ha malinterpretato gli eventi malinterpretato gli eventi perché ci sono quelle donne sono la minoranza lo so già ne parlerò anche domani sera il canale twitch triunvirato scrivete twitch triunvirato ci sono donne nel mondo islamico che stanno parlando davanti delle battaglie che sono incredibili saranno poche queste donne a kabul ma che coraggio hanno sono poche donne in arabia saudita certo ma che coraggio hanno cioè anziché valorizzare quelle forze di resistenza la posizione alloriana fallaci polarizza lo sconto di civiltà che a mio avviso va assolutamente evitato vi dicevo secondo capitolo presenta queste esperienze terzo capitolo la modernizzazione occidentale ci c'è attenzione questo mondo di civiltà ha un problema che la modernizzazione cavallo che corre velocissimo la modernizzazione treno lanciato in corsa che sembra non fermarsi mai produce l'antimodernità cioè produce la reazione alla modernità perché quando la modernizzazione magari violenta quando la modernizzazione è rapida ultra veloce crede le sacche di resistenza sono i famosi vincitori e vinti di olbo vincitori e vinti nella modernizzazione c'è chi vince c'è chi perde è chiaro frattempo vi ringrazio non solo su youtube domani sono su 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 twitch e poi la caricheremo su youtube e ringrazio anche di coloro che che hanno fatto le donazioni sotto con il pulsante allora mi stavo dicendo nella del progetto modernizzato dice huntington e c'è un tentativo di universalizzare il mondo e questa occidentalizzazione moderna crea le reazioni dove nell'islam innanzitutto ma poi anche in altre parti del pianeta e lui a metà anni 90 dice attenzione le reazioni salivo culturale noi e voi noi e voi l'antimodernità occidentale capitalistica passeranno attraverso un recupero di identità di tipo tribale religioso culturale questo è sviluppato nel capitolo nel capitolo 3 capitolo 4 nel capitolo quarto è si parla del declino dell'occidente qua recupero quella citazione che ho già fatto di sprangler l'opera appunto del filosofo tedesco il tramonto dell'occidente e spaventato qui è antito il vecchio conservatore che ha paura che l'occidente tramonti declina di chi non dimentichiamoci mai che noi occidentali no come ci ricordava sempre malcom x ovunque siamo andati abbiamo conquistato ha fatto guerre saccheggiate dunque occidentale anche pur di tramontare perché sa l'occidentale quello che ha commesso quello che va bene e dunque e dunque c'è la paura questo tramonto significhi titoli di coda capitolo quinto demografia e civiltà capitolo molto bello dice attenzione le civiltà si fronteggiano anche a colpi di figli a colpi di demografia e e la civiltà islamica giovane e fa il caso della bosnia dell'albania dove a fine anni 80 primi anni 90 si assistono la crescita imponente delle minoranze islamiche diventano maggioranze il kosovo lungi da me difendere slobo da milosi ma il corso era una regione serba la maggioranza serba nei primi del novecento a fine 900 era maggioranza islamica e la maggioranza islamica kosovara ha voluto l'indipendenza giusto dargliela lo so parliamone è giusto che intervengo stati uniti la nato dargliela non so parliamone è giusto intervenire per interrompere la violenza di slobo da milosi da serba sì magari sì parliamone però gli chiedo veramente ne parliamo immaginate che domani non so processi di demografia producono maggioranza in calabria in sicilia e si chiede l'indipendenza e qui scontro dargliela magari c'è un processo politico cioè vuol dire che è molto più complesso antiton qua ci dice attenzione la demografia cambia cambia gli equilibri geopolitici la demografia è centrale per la comprensione delle dinamiche politiche e geopolitiche va bene il mondo non si deve dimenticare le sue origini greche quindi orientali dove si trova mia ma certo ma noi dobbiamo ma io sa parlate con un amante del sincretismo della contaminazione ma nel nostro sangue italiano ci sono i romani cartaginesi di etruschi sui francesi gli spagnoli il mondo che io amo il mondo senza barriere no ma perché ma perché si vive meglio emmanuel kant emmanuel kant meno confini o confini molto meno aggressivi più possibilità di pace ma queste queste sono politiche da attuare eh ma la posizione politica su questo lo sapete io penso che il nazionalismo sia dei più grandi problemi politici perché in nome delle nazioni si possono fare anche salti di progresso immaginate strade strade stazioni sanità scuole ma si fanno anche tante guerre io penso che si possono fare porti porti scuole eh anche senza il nazionalismo con una buona e sana democrazia ok capitolo quinto è questo io alle 10.30 eh vi saluto o 10.35 voglio fare queste sono delle dirette da un'ora in quarto un'ora e venti così poi anche voi andate andate a dormire a leggere e ovviamente scrivetemi sotto se vi sta se vi sta piacendo se vi è utile il kosovo non era serva va integrata in una grande albania era e ma anche qua e non era c'è la grande albania c'è la grande ma poi ci sono problemi vi ho solo detto attenzione che a inizio novecento la maggioranza di abitanti in Kosovo era serba e non era islamica hm poi mi dite albanesi o se erano albanesi e serbi pochi islamici kosovari islamici in maggioranza poi albanesi progressivamente nel novecento la grande Serbia è un progetto la grande Albania è un progetto ognuno ha una grande la grande Croazia la grande Albania la grande Serbia e poi ancora la grande Turchia e poi ancora la grande Persia l'Irama c'è ognuno ha qualche più piccolo di quanto è vorrebbe essere e lì il tema del terzo Reich dello spazio vitale dello spazio vitale ok Mileto in Turchia Mileto era greca certo che così Efeso di che libro stiamo parlando stiamo parlando di scontro di civiltà lo scontro di civiltà librone importante geopoliticamente rilevante di metà anni novanta di Samuel Paul Huntington conservatore politologo della destra americana che risponde a Francis Puyama e al libro la fine della storia dicendo no che fine della storia ci saranno più conflitti su base etnica forse anche i talebani vanno così interpretati e certamente poi nel capitolo sesto si occupa del nuovo scenario mondiale in modo particolare parla dei paesi in bilico di civiltà che sono in bilico le faglie di conflittualità faglie di conflittualità nel mondo russo faglie di conflittualità nel mondo islamico nel mondo africano e poi arriva a parlare della grande Cina la sua sfera di coprosperità antiton dice tesi interessante la crescita economica della Cina farà sì che la Cina riuscirà a polarizzare gli stati più vicini più piccoli perché dalla prosperità cinese avranno che da guadagnarci dunque nascerà un grande impero cinese questa previsione di antiton l'islam ha una coscienza sì ma non c'è coesione l'islam ha una carenza di cultura politica di unità politica di nazione di stato deve trasformare quella cultura in nazione in stato deve dare coesione politica deve dare appunto unità l'unità statuale non l'ha mai ottenuta e lui dice la otterrà nel radicalismo non è avvenuto comunque non è radicalismo il principale elemento dell'islam non è radicalismo radicalismo islamico invece altro dice forse nella radicalizzazione troveranno coesione ed è quello che ha cercato di fare al caeda e di altri gruppi capitolo ottavo che diritti umane e democrazia come tutelarli dice sono un problema perché alcuni non lo vorranno non li vorranno i diritti umani dunque è la problematicità dei diritti umani capitolo nono i conflitti di faglia capitolo nuovo nono è importante va bene perché sono tutte le faglie di ciò del conflitto l'islam e l'occidente i problemi la cina e la l'asia e la cina nell'asia schieramenti emergenti schieramenti emergenti ci dice ci vogliono nuovi schieramenti ok parla del pakistan e la cina a un certo punto dove si posizionerà islamabad le ambizioni dell'ira dove andrà l'ira e visto che l'ira dalla disgregazione dell'iraq spera di ottenere un ampliamento territoriale testo molto importante la rabbia saudia dove si collocherà ne parleremo domani sera con morte bianca e e carnevale dove si è andata collocare è rimasta fedelissimo gli stati uniti ma ha covato proprio interno al caeda il guabismo e dunque l'estremismo l'estremismo poi ancora capitolo capitolo sono perso l'indice quando recuperarlo un attimo capitolo decimo è il nonno l'ho detto mito decimo guerri transizione afghanistan e golfo non quelle del 2001 libro del 97 la prima guerra del golfo 91 intervento dell'alleanza internazionale delle nazioni uniti guidata le nazioni unite anche ma di fatto cappellata degli stati uniti contro saddam hussein a cui è seguito un embargo un embargo di 15 anni che è cassato alla morte a 500 mila solito bambini in iraq embargo che poi non ha porto nulla se non poi addirittura a una guerra contro saddam hussein un embargo criminale denunciato da tantissimi che caldo da tantissimi anche commissari dell'onu e tantissimi anche diplomatici ebbene le guerre in afghanistan quella contro l'unione sovietica e poi la guerra tra e arriva l'attualità talebani che prenderanno il potere in quegli anni nel 96 e l'alleanza del nord ok massud eccetera eccetera sono guerre di transizione perché eccoci qua dice antito la guerra in afghanistan sta avvenendo su base identitaria no prima era una guerra anticomunista dei musei di oggi una guerra dei talebani che contrappongono ad altri ad altri islamici un'identità islamista giadista radicale ecco la tesi di antito si sta radicalizzando su posizione islamiche anche saddam hussein che era un laico cresciuto mondo militare della filo francese capito niente che sta fai di stato studiato in francia cioè quei laici militaristi stanno abbracciando la posizione islami islamica e islamista tante che saddam hussein fece cambiare la bandiera dell'ira che mise delle scritte tra cui anche alla grande no al bar per portare con sé il mondo islamico è un testo importante diciamo che ed ecco le nuove faglie che stanno appunto strutturandosi su base etnica emergere capitolo undicesimo cosa sta emergendo stanno emergendo identità c'è appunto di civiltà coscienza di appartenenza ritornano i confini ritornano le identità ci sono paesi che si gemellano paesi fratelli paesi che invece cacciano le loro minoranze uto e tuzzi di aspore quali soluzioni questo soluzioni possibili è solo il protagonismo dell'occidente antinton vali non parla neanche tanto di multilateralismo forse antino un profeta del ventunesimo secolo americano che però non si è realizzato allora tanti ha ragione siamo alla de occidentalizzazione la fuga la ritirata da kabul è un altro passo di de occidentalizzazione di declino dell'occidente il tramonto dell'occidente l'occidente nel mondo come se la passa lavorerà sulle faglie di comunanza oppure no è il destinato a sgretolarsi oppure no in bosnia le guerre furono su base etnica dice allora abbiamo avuto i bosniaci musulmani serbi ortodossi nei croati cattolici ecco nel cuore dell'europa che non faceva le guerre da 40 anni c'è una nuova guerra ed è una guerra tra comunismo anticomunismo è una guerra tra capismo no è una guerra tra bosniaci musulmani il bostar sarajevo serbi ortodossi e croati cattolici ecco che la guerra di civiltà le faglie di civiltà le faglie di conflitto sono presenti nella nostra europa questo è antico questo è antico testo vi ripeto che contiene delle forzature ma che dà un'interpretazione la ripeto la tesi finale è il nuovo ordine mondiale si strutturerà intorno a conflitti di identità a conflitti culturali e conflitti etnici e in questi conflitti c'è un nuovo disegno si riposizionano le potenze e cambieranno magari anche le alleanze non è detto anti don dirà che il giappone a un certo punto non venga assorbito dalla cina tesi interessante ma è questa piace abbastanza giappone e cina unico grande blocco orientale o forse antito lo dice per spaventarci allora votiamo bush o biden non lo so o tra pochi perché l'america comunque militarista ma votiamo qualcuno che tenga alta la bandiera americana magari solo questo il tentativo di antito risvegliare certamente una risposta a frankis a frankis fukusama e dunque alla fine della storia va bene questo è questo il testo questa è stata anche la prima diretta dell'anno il primo barba simposio ho voluto parlare di geopolitica ho voluto presentarmi questo testo spero che la lezione vi sia vi sia piaciuta che il consiglio di lettura vi sia piaciuto siete stati veramente tantissimi anche 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 in un mondo chiaramente di dialogo ci sono gli scontri ma non bisogna demonizzare i conflitti vanno governati buonanotte ma andremo a dormire buonanotte ma andiamo anche noi ciao viviana il primo i tanti martedì spero grazie ma grande diretta allora fra elti è piaciuto bene 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 io vi abbraccio tutti ci vediamo martedì più di chiacchierata parleremo un po con autori con autrici dunque primi appuntamenti sono ma da fontanella parleremo di socrate maieutica medicina poi con valerio pattaro parleremo di fisica di test di medicina parleremo di quiz parleremo di sperimenti parleremo di fisica in rete poi avremo roberto mercadini e presenteremo il suo libro la bomba atomica chiacchierata con roberto e parleremo di bomba atomica e lui un animale veramente da teatro un grande monologhista gli chiederemo di fare un pezzettino anche qua per voi di barbara sofia proprio sulla bomba atomica poi elogio delle tasse con il professore universitario di torino francesco francesco pallanti i primi quattro appuntamenti sono questi socrate fisica roberto mercadini bomba atomica e elogio delle tasse ma poi ci sarà nice questo ci sarà spinoza e poi e poi e poi ci sarà una serata dedicata all'astronomia con un amico ha scritto un testo molto molto bello che si titola proprio se c'è vita fuori dal sistema solare dunque c'è c'è vita nel nell'universo parleremo dunque di questo e poi andremo avanti fino fino a dicembre con ospiti e con chiacchierate domani sera vi aspetto sul cariettrici del triunvirato parleremo di twin towers faremo del ventennale delle twin towers tutto vi ho detto a febbraio uscirà il nuovo libro dieci nuove autori di oggetti tre marx spinosa epicuro vi ho anche accennato accanto dunque dei big io spero che lo prendiate prima che esca in modo tale da poter andare sul cassino ma sto scherzando anche se poi dopo come voi sapete andare in cassino cosa vuol dire una semplice cosa per editore per risolvere ma per me vuol dire ovviamente poter andare a parlare poi di filosofia in giro ok in giro in giro grazie buonanotte buonanotte sono anche in giro perché abbiamo la scuola si di pinerolo sono sabato questo a pinerolo in piazza a parlare della scuola socratica e niciana pensieri in piazza sono a pinerolo quello sabato pomeriggio invece il 25 sono a gubbio il festival di storia medievale a parlare di dante non sono d'antista non parlo di dante parlerò dei filosofi che dante ha messo all'inferno buonanotte grazie a chi ha donato sto scritto io vi ricordo piattaforma tp abbonatevi ci sono almeno da 50 video esclusivi tutti per voi un bacione buonanotte ci vediamo martedì prossimo martedì prossimo il testo di stasera è samuel paul huntington lo scontro di civiltà edizione garzanti adesso c'è anche l'edizione economica buonanotte e buona filosofia a tutte ea tutti grazie 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 grazie